E' stato sorpreso dalla polizia municipale di Arezzo fuori da casa mentre avrebbe dovuto rispettare la quarantena in quanto positivo al covid. Durante i controlli che quotidianamente vengono effettuati per verificare il rispetto degli isolamenti domiciliari, un agente infatti ha scoperto lontano dalla sua abitazione un 42enne balcanico che era risultato contagiato dal virus. Dopo aver accertato l'assenza dell'uomo all'interno dell'abitazione, il vigile ha tentato di contattarlo telefonicamente ottenendo risposta da un luogo chiaramente diverso dall'appartamento in cui il 42enne aveva dichiarato di trascorrere l'isolamento. L'agente allora ha chiesto supporto ad altro personale della polizia municipale che giunto sul posto si è appostato all'esterno dell'edificio. Dopo pochi minuti l'uomo è arrivato di corsa tentando di rientrare senza essere scoperto. La polizia municipale ha così riportato l'uomo immediatamente dentro casa ma in virtù del mancato rispetto del divieto di allontanamento imposto dalla quarantena obbligatoria lo ha denunciato all'autorità giudiziaria.